Considerato il re del reggaeton, Deddy Yencki approderà per la prima volta in Puglia a Barletta il prossimo 21 giugno. Il fossato del castello Svevo sarà così pronto ad accogliere fino ad un massimo di 10.000 spettatori per un concerto inserito nelle 5 tappe italiane che porterà nella città della disfida un artista di fama internazionale. Deddy Yencki ha raggiunto la notorietà nel 2005 grazie al singolo Gasolina per poi trovare conferma e successo in tutto il mondo con hit come Despacito, Limbo e l'ultima con Calma, già disco di platino in Italia pronto a divenire il tormentone dell'estate 2019. Ho chiuso 4 anni fa con un concerto internazionale che è stato quello di Anastasia e riprendiamo appunto il 21 giugno con un altro evento mondiale che è quello di Deddy Yencki, un evento che chiaramente in Italia porta solo 5 date tra le quali appunto quella di Barletta dopo Milano e dopo Barletta va a Londra ad aprire il concerto degli U2. Quindi stiamo parlando veramente di un artista mondiale di grande levatura, di grande spessore musicale e artistico. Oltre ad essere il re del reggaeton è anche un professionista del mondo dello spettacolo e della cinematografia, infatti lui è produttore sia musicale che cinematografico, quindi veramente un personaggio di altissimo livello che porta lustro e importanza alla nostra città. Ed è stato il promoter dell'evento Reste Scorcia a soffermarsi sugli aspettative del concerto. Un nome del genere dovrebbe portare almeno un minimo di 5.000 persone, se arriviamo a 10.000 faremo tutti una grande festa. Volevo appunto segnalare a tutti coloro che vorranno acquistare i biglietti che gli unici circuiti in vendita dei biglietti di Deddy Yencki sono attualmente Ciao Ticket e nei prossimi giorni ci sarà Viva Ticket e Ticket One. Sono gli unici circuiti ufficiali, non esistono liste prevendite, non esistono liste PR, non esiste nulla. I circuiti sono questi, ai quali si aggiunge anche un'applicazione app di Ugo.